Dopo la nave quarantena Aurelia, che ieri dopo due giorni in cui il forte vento aveva reso impossibile l'attracco a Calapisana, ha preso a bordo 273 migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, 60 dei quali positivi al coronavirus. Oggi è il giorno della nave azzurra, che è proveniente da Trapani, ha già traccato nell'isola. Il Ministero dell'Interno ha reso noto che fra quelli imbarcati ieri sull'Aurelia e quelli che verranno presi oggi sull'Azzurra, sono 850 i migranti che saranno trasferiti da Lampedusa. Oggi verranno imbarcate dunque circa 580 persone. Una boccata ad ossigeno per l'hotspot di Contrada in Briacola, che con una capienza di quasi 200 persone, in questi giorni ha ospitato oltre 1300 migranti, costretti in condizioni precarie se non disumane. Il Viminale fa sapere che è in corso di predisposizione un nuovo bando per reperire altre navi quarantena per ospitare i migranti, che sbarcano in Italia alleggerendo così le strutture a terra. Ottima notizia il commento del Governatore Nello Musumeci. Aspettiamo la dichiarazione dello stato di emergenza chiesto dal Comune di Lampedusa e deliberato dalla Regione.